Per acquistare crediti, IGVOLT è la soluzione, veloci, sicuri e rimborso gratuito, link in descrizione col mio codice coupon. Bella a tutti ragazzi qua Orgasmic e sono qui a portarvi un nuovo squad builder. Come mi è stato detto e chiesto nei commenti nello scorso squad builder, vi porto una squadra della serie A, totalmente serie A, molto molto cheap perché costa circa sui 20k ed è veramente clamorosa. Ma in ogni reparto, la cosa principale di questa squadra, la caratteristica principale è che segna ogni giocatore, praticamente ogni reparto potrebbe fare gol, soprattutto il centrocampo che è veramente stellare. Ma andiamo subito a vedere i giocatori che la compongono, troviamo subito in Porta Marchetti che reputo un grandissimo portiere, mi ha preso un solo gol in tre partite che l'ho utilizzato, costa poco, meno di 1500 crediti e ti garantisce grandi parate, soprattutto grazie all'87 di riflessi che è una cosa veramente spettacolare. Il resto delle statistiche sono molto alte, tipo tuffo, presa va bene, anche piazzamento va abbastanza bene, certo se vi fanno dei tiri a giro fa un po' fatica, ma vi garantisco che è un ottimo portiere. Poi, andiamo sulla difesa, come terzino destro ho utilizzato Montoya che l'ho preso più che altro per la buona velocità, i buoni valori di difesa e di fisico, infatti ha degli ottimi valori, ha anche un discreto passaggio, cosa secondo me molto importante, direi fondamentale in questo gioco. costa 2400 crediti, penso che li possa valere tranquillamente, ci sono comunque delle alternative, poi dipende anche dal vostro budget, se avete più soldi ci sono giocatori più veloci, più forti, se avete meno soldi c'è qualche non raro, comunque buono. Mi ha fatto comunque un assist in tre partite, lo stesso discorso vale per tutti gli altri ruoli comunque. Andiamo con la difesa, troviamo Zapata come difensore centrale di destra che è veramente un grande, grandissimo difensore centrale, non l'avrei mai detto perché in real life è veramente un disastro come giocatore, magari non proprio difensivamente, però in generale un disastro. Su FIFA Ultimate Team è veramente fortissimo, è alto 187 quindi di testa le prende praticamente tutte, è anche un ottimo fisico, ha una buona velocità di 72 quindi i recuperi ai giocatori più veloci li fa, ha 83 di difesa che è veramente altissima come statistica, infatti non passa praticamente nessuno davanti a Zapata, è veramente difficilissimo, inoltre con Sentinella che aumenta appunto di 3 sia difesa che fisico è tanto meglio. Mi ha fatto anche un gol tra l'altro su calcio d'angolo, di testa, quindi anche per quello è molto pericoloso, costa meno di 3000 crediti e vi consiglio di prenderlo perché è veramente forte. Molto buono anche il suo compagno di reparto, cioè Rudiger, che devo dire che mi è piaciuto molto, lo peso più che altro per la sua velocità, infatti ha 80 di velocità e molto alto, per questo poi costa 2500 crediti, ma comunque è un buon giocatore, fa anche lui ottimi recuperi difensivi, non è forte magari in difesa come Zapata, però la sua velocità lo aiuta tantissimo. Mentre, per completare la difesa, come terzino di sinistra ho utilizzato Ansaldi, che per me come rapporto qualità-prezzo è il miglior terzino sinistro che abbiamo in serie A, perché costa poco, 500 crediti ed è veloce, ha più o meno le stesse statistiche di Montoglia, solo che lui è raro e quindi costa di più, è veloce, è forte in difesa, un po' meno in fisico, però comunque alto 181 è un buon passaggio anche lui, quindi per me è un ottimo giocatore. Inoltre ha anche 4 stelle piede debole, quindi se la passa anche di destro va bene comunque. Centrocampo. Allora, come centrocampista di destra ho utilizzato Sturaro, che è veramente buono, mi è piaciuto tantissimo, guardate che statistiche. Vi ho detto prima che il centrocampo è il reparto nevralgico di questo gioco, ma è anche il reparto nevralgico di questa squadra, perché è da qui che partono tutte le azioni e non solo, si concludono anche. Infatti vediamo 3 gol e 2 assist in 3 partite per un centrocampista centrale, è davvero tantissimo, è un giocatore incredibile, che ha una buona velocità, anche un buon dribbling se per quello, un tiro che, vabbè, 69 non è il massimo, però mi ha fatto 3 gol in 3 partite, quindi qualcosa di buono c'è in questo tiro. Ottimo passaggio, 76 con 2 assist veramente ottimi, e poi comunque ha tutte le statistiche superiori al 75, a parte il tiro, quindi è davvero un ottimo giocatore, alto alto di work, quindi attacca e difende sempre, è molto buono anche in fase difensiva. 1500 crediti per me, per questo giocatore, sono uno scherzo. Poi, per completare i centrocampisti centrali, ho usato Strotman, anche lui l'ho preso perché era tra quelli che costava un po' meno, infatti l'ho pagato solo 2000 crediti, anche perché, secondo me, la velocità non conta praticamente nulla, anche a centrocampo, o conta veramente poco, quindi Strotman è perfetto, perché comunque non è lentissimo, ma ha delle buone statistiche in ogni repasso, in ogni, appunto, ogni statistica è buona, superiore al 70, quindi vediamo un ottimo tiro, un grande, grande passaggio, un ottimo dribbling e comunque molto forti in difesa e fisico, anche lui ha work at alto alto, quindi attacca e difende con grande facilità, ma soprattutto anche lui mi ha fatto due gol e un assist in tre partite, quindi sono già cinque gol e tre assist per i due centrocampisti centrali, che è una cosa veramente pazzesca. Mentre il COC, ragazzi, qui lo dico, è il giocatore più forte di questa squadra, che adesso andiamo subito a vedere, Jack Bonaventura, provatelo se non l'avete fatto, è un giocatore clamoroso, 4 gol e 3 assist in tre partite, sono statistiche della Madonna, lui è un 78, che in realtà è cc, ma bisogna comprare anche il cambio di ruolo, comunque meno di 3000 crediti, lo pagate in tutto, veloce, dribbling pazzesco, ottimo controllo palla, tiro meraviglioso, infatti 4 gol, solo così li possiamo spiegare, ottimo passaggio con 3 assist, dribbling pazzesco, non perde mai il pallone, ha un ottimo fisico, tra l'altro, quindi è anche una difesa non male, ecco, non tralasciamo questo punto, ha purtroppo 3 stelle piede debole e 3 stelle abilità, se avesse avuto 4-4 sarebbe stato un giocatore perfetto, la perfezione in terra, però ci dobbiamo accontentare così, ma ragazzi è veramente un giocatore fortissimo, è da provare secondo me anche Bertolacci, che potrebbe fare la sua sporca figura, alla di destra, andiamo con l'attacco, Gakpe, ho trovato Gakpe molto forte, anche se mi ha fatto un solo gol in 3 partite, però mi ha fatto 3 assist, quindi tanta roba, anche se non ha un passaggio altissimo, però gli assist li fa tranquillamente, è velocissimo, quindi sulla fascia difficilmente lo si prende, anche un discreto dribbling, e un buon tiro con il destro, purtroppo è un destro che gioca a destra, quindi se rientrate il sinistro con 3 stelle piede debole non è il massimo, però comunque sia, l'ho pagato poco, 1200 crediti, certo c'è da comprare anche il cambio di ruolo, che è quello che costa tanto, però di ali destre ce ne sono veramente poche, secondo me forti, o comunque poco costose, che comunque per me Gakpe è il migliore, ecco, da comprare. Poi, come ha la sinistra, ho utilizzato Mounier del Bologna, davvero un crack, non so perché sono uscito, Mounier veramente fortissimo, oh mio dio, ok, ci siamo, ci siamo, ok, Mounier, stavo dicendo, veramente fortissimo, veloce, ha un ottimo dribbling, ha un ottimo tiro, infatti 2 gol e 2 assist in 3 partite, appunto dicevo 78 di passaggio, ottimo, l'ho preso più che altro perché ha un ottimo cross tipo di 85, quindi col sinistro mette dei cross veramente strepitosi, e in più non costa niente, 900 crediti per me sono pochissimo, purtroppo questo workout è normale, normale, che un po' lo danneggia, però comunque sia, come vedete dalle statistiche, è veramente forte, mentre il giocatore che un po', mi ha un po' deluso, adesso vi faccio vedere chi è l'attaccante, cioè Zazza, ho preso lui per il semplice motivo che era uno dei giocatori meno costosi, rari della serie A, volendo si può mettere di meglio, per esempio, non so, Manzwic, secondo me è perfetto per questo modulo, per questa squadra, è anche forte per me Icardi, Morata, però sono tutti giocatori che costano di più, ho voluto provare Zazza perché mi piaceva sul 14, non è la stessa cosa sul 16, però non è male, mi ha fatto comunque un gol e un assist in tre partite, contando che i centrocampisti segnano tantissimo, e questa è la cosa più importante, comunque può essere buono, come diciamo Boa, davanti, appunto, vicino alla difesa degli avversari, in attacco per fare sponde, eccetera, eccetera, ma anche di testo è molto buono. Comunque raga, questa è la squadra, fate i vostri cambiamenti, magari per l'attaccante o per chi volete, in base al vostro budget, fatemi sapere cosa ne pensate, perché questa squadra è da provare, secondo me è molto molto forte e competitiva, anche se costa così poco, come sempre vi invito a lasciare un bel like, 300 mi piace uscirà un nuovo video, fatemi sapere che squadre volete che vi porti nel prossimo video, magari pensavo a una chip BPL, fatemi sapere cosa ne pensate della Premier League, iscrivetevi al canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link in descrizione, adesso vi lascio le clip, ci vediamo al prossimo video, bella raga! Ciao! Ciao!